Il Signore sia con voi Avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti Tivorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere Essi riceveranno una condanna più severa Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava le monete Tanti ricchi, ne gettavano molte Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo Allora chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro In verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva Tutto quanto aveva per vivere Parola del Signore Siamo qui per celebrare la Pasqua di Gesù E cioè la gioia di poter finalmente dire grazie a Dio In modo dignitoso perché Il dono che a Lui facciamo non è solo quello della nostra vita Non è quello della vita del Suo Figlio E questo ci dà una garanzia assoluta Che ogni nostro gesto, ogni nostra preghiera Ogni nostra opera di bene è gradito a Dio Proprio perché noi siamo qui a metterlo In comunione con l'offerta Del corpo e del sangue di Gesù E in cambio chiediamo La luce dello Spirito Santo Per riuscire a intraprendere La comprensione Della parola che abbiamo ascoltato Mi fermo sul Vangelo Come sempre la pagina di ogni Vangelo Può essere letta per dire Fate i bravi, fate i buoni Vedete, se vi sforzate Mettetecela tutta E diventerete buoni cristiani È una lettura che non è sbagliata Ma è talmente parziale Da impoverire la portata del Vangelo Il Vangelo ci insegna la verità della vita Ci insegna la strada per essere felici E ci insegna una strada Sulla quale noi istintivamente Non ci incammineremo mai E allora vedete che qui tocchiamo In questo brano del Vangelo Il punto cruciale della nostra fede Cioè la capacità, la libertà, il coraggio, lo slancio La passione di osare l'incredibile E di accettare la sfida di una sproporzione immane E mi spiego San Marco ha messo insieme, non a caso Questi due episodi estremi Per fare vedere come se avessi una bilancia E per dirci Ma la tua bilancia Quella che hai nel tuo cuore La bilancia che usi tutte le volte Che devi fare una valutazione della tua esistenza La bilancia che usi quando devi prendere una decisione La tua bilancia da che parte pende Rispetto a questi due estremi Tu ti avvicini di più all'atteggiamento della vedova povera O all'atteggiamento del piissimo scriba Che non riusciva a capire che c'era una contraddizione profonda Tra le sue lunghe ore di preghiera E il fatto, e il verbo è terribile Divorano le case delle vedove Non è, potrebbe essere istintivo Cominciare subito a dire No, no, io sono una povera vedova Io non sono mica quello scriba lì Per amor del cielo E poi cominciare a identificare Dei limiti, dei difetti Nella Chiesa Qui si parla di gente religiosa E non si parla di gente non credente Qui si parla di gente molto credente Gli scrivi erano i maestri della fede Sapevano leggere E quindi insegnavano la parola A chi non la sapeva leggere Quindi non erano gli scribi Che scrivevano romanzi o racconti Erano gli scribi della parola di Dio E facciamo in fretta Ad applicare agli altri Si potrebbe anche farlo Ma non credo che sia il caso Ci sono già tanti strumenti Per analizzare E invece io vorrei Almeno per quanto mi riguarda Per quanto riguarda me Lasciarmi interrogare Nella mia vita E vedere dentro di me Perché dentro di me C'è sia lo scriba Che la vedova povera C'è sia la tendenza A valutare il significato E il valore delle cose che faccio In base al risultato O addirittura a un pubblico riconoscimento E invece mi porterebbe tristezza Sono tante cose in cui Mi porta tristezza L'essere totalmente inadeguato Fare un'offerta quasi di nascosto Perché sono povero Proviamo ad analizzare Qual è la differenza Tra questi due realtà Tra questi due esempi Ma tenendo presente che siamo noi Entrambi siamo noi E che quindi è dentro di noi E che come sempre Quando celebramo l'Eucaristia E ascoltiamo la parola Deve essere qualcosa Che ci ferisce il cuore E che ci fa fare E ci fa cambiare un po' la vita Perché non siamo qui A fare un atto di culto Non siamo qui A fare un atto di presenza Perché è domenica Ma vedere se c'è qualcosa Da aggiustare Soprattutto se Gesù Che noi diciamo di amare In tutte le cose Ci sta chiedendo qualcosa in più E ciascuno di noi Nel punto in cui è adesso Può fare un passo avanti E proprio come nel caso Della vedova povera Non importa dove tu arrivi Ma importa se ti muovi Fa molto di più Un peccatore che si converte Che gente che passa la vita Nella preghiera E magari quel pezzo Che gli manca la conversione Non si ricorda neanche più Come si fa Qual è il criterio? Il criterio dello scriba Il criterio dello scriba È quello di essere In qualche maniera Schiavo O comunque troppo attento Al giudizio degli altri Ci sono momenti Confessiamocelo Perlomeno io ve lo confesso Ci sono momenti nella vita In cui la preoccupazione più grande È cosa diranno gli altri E allora la tentazione Per lo scriba Era quella di far vedere Cosa gli altri Reputavano bene Lui era uno scriba Quindi doveva essere Era un'autorità Le autorità Non si possono nascondere Era uno scriba E quindi Pregava tanto Pregava a lungo Perché si aspettava Che gli altri Lo vedessero pregare Confesso Confesso Che certe volte Mi fermo in chiesa Nella speranza Che qualcuno mi veda Che sto pregando E dovessi accorgermi Una cosa del genere Mi spavento subito E dico No signore Qui sto facendo un peccato È meglio Che me ne esca Dalla chiesa E che magari Venga a pregare domani Quando sono un pochettino Più serio E quando sono un pochettino Più umile E distaccato Allora il criterio Dello scriba È quello Del giudizio Degli altri E del farsi vedere Ma la cosa triste Di questo scriba Io non so Se poi Ha seguito Gesù Qualche scriba Sì Però Il Vangelo Ci presenta Tanta gente Che ubbidisce Alla legge Pensate A quello Di signore Cosa devo fare Per avere la vita eterna E ha fatto tutte le cose Migliori Che poteva fare Gesù gli dice Cerca di voler bene a me E quindi Fai diventare me Il centro della tua vita Da tutto il resto I poveri E dice No Fino a lì Non ci arrivo Ecco Il centro della vita Dello scriba È l'idea di essere a posto È l'idea di cavarsela È l'idea di avere Una bella religione Di avere Un bel rapporto Con Dio Però Non sospetta O non crede Che l'unico rapporto Possibile con Dio Passava Dal rispetto delle vedove Cioè dei poveri Non so che impressione vi fa Ma questo atteggiamento Di una persona Piissima Che vuole anche farsi vedere In senso buono Insomma Non voglio fare esempi Perché mi vergogno Ma di scene così Ne vediamo tutti i giorni Anche da parte Degli ecclesiastici E non solo E quindi È una cosa Che non è condannabile Ma niente di male Cosa c'è di male O però Questo qui Divorava Divorava Le case delle vedove Un'espressione terribile E questa contraddizione È dentro di noi E poi c'è Gesù Gesù che Siamo nel tempio Quindi siamo in chiesa Tra virgolette Siamo in un luogo Religiosissimo Tutta la gente Che c'era lì Era gente Che prima di mettere Piede lì Si era Altro che Sanificato le mani Aveva fatto Tutte le abluzioni Del caso Una cosa Complicatissima Quindi aveva rispettato Tutte le leggi Che erano parecchie E quindi erano a posto Più a posto di così Erano nel tempio Non erano per strada E Gesù Guardava Quanti soldi Mettevano Non i soldi Che atteggiamento Avevano le persone Che mettevano Le monete Nel tesoro del tempio Che poi andavano Finire agli iscrivi Quei soldi lì Non solo agli iscrivi E a un certo punto Dice Tanti ricchi Leggettarono molte E vabbè Venuto una povera vedova Leggettò due monetine Che fanno un soldo Niente Pochi spiccioli Noi diremmo Rispetto ad assegni Offerte da Sette Otto Dieci Venti Trentamila euro Questo qui ha messo Due centesimi Due centesimi Guardate la proporzione La sproporzione Gesù capisce Che questa cosa Ha bisogno di una spiegazione Allora chiamate a sé I suoi discepoli I quali discepoli Ragionavano come Gli iscrivi E questo è il problema Questo è il punto Chiama i discepoli E disse loro Voi non vi siete neanche accorti Ma Perché non avete guardato Eravate attenti Quali erano vestiti bene Erano importanti Insomma Ma fa una certa scena E non vi siete neanche accorti Ma questa povera vedova Ha gettato Due soldi E fin qui I discepoli Ho detto No Ha fatto bene Sarà capitato Senz'altro Anche a voi Di sentire Nelle prediche Dove Pur di raccogliere I soldi Date anche poco Ma date qualcosa Capito L'importante è dare Un po' di soldini Veniamo da una tradizione Del genere Che Anche nelle cose giuste Per amor del cielo Però Ha creato Un'aria di diffidenza Nei confronti Della chiesa E anche se Questa diffidenza Non sempre è giustificata Però noi siamo Colpevoli Di questa cosa Ma la cosa più interessante È la spiegazione E qui E qui siamo Con le spalle al muro Cari miei Perché lei Ha dato tutto Quello che aveva Per vivere E allora La logica del Vangelo È chiara La logica del Vangelo È che tu devi avere Delle bilance È un po' particolare Potremmo dire Delle bilance truccate Perché una piccola cosa Fatta con amore È una grande cosa Una grande cosa Fatta senza amore È niente No ma va bene lo stesso Perché No no Alla fine È niente Vedo che tutti siete Giovincelli Quindi non so Cosa vi ha insegnato La vita Io sono vecchio E ormai una cosa L'ho capita bene Forse l'unica Che Man mano che invecchia È come se Tutto quello che hai Nelle mani È da giotaggio Stringi 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 E vedi che tutta la sabbia L'acqua Se ne va Ti resta in mano Quasi niente Poi quando hai stretto la mano Apri la mano Guardi cosa ti è rimasto Ti è rimasto solo l'amore Ti è rimasto solo Le relazioni belle Che hai costruito Con le persone E questo vale anche Per la Chiesa Stringi 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 Cos'è che rimane E allora Finisco Il Signore Gesù Dice Se vuoi stare Con me Devi amare Tanto Non devi amare Tanto Devi imparare Ad amarmi Tanto E se ti sembra strano Che io ti chieda Di amarmi tanto Perché non mi vedi Perché hai le idee Un po' confuse Ama tanto Le sorelle E fratelli Metterci tanto amore Nelle cose che fai E prima o poi Ti imbatterai con me Non c'è niente da fare E allora Trago due conclusioni Veloci La prima Vedete Quanto lavoro Dobbiamo fare In questo mondo Che ha istituito L'individualismo Come il criterio Fondamentale Che guida Le scelte C'è un individualismo Personale C'è un individualismo Di gruppo Certe anche Situazioni Disagiate Che troviamo in giro Certe Esplosioni Di rabbia Da che cosa Nascono Io me lo chiedo Tutti i giorni Perché non riesco A capire Però forse Una spiegazione C'è Ed è La paura Che nasce Dall'individualismo La paura Che nasce Del prendersi cura Solo di sé La paura Che nasce Dal rancore Che hai Verso gli altri Siamo entrati In una fase Rancorosa Della vita sociale C'è tanta rabbia C'è tanta rabbia Rissentimento E in questa maniera Gesù si allontana E invece noi dobbiamo Se amiamo il Signore Con molta semplicità Verrebbe da dire Senza rancore Verso quelli Che hanno rancore Perché la cosa È che molti cristiani Hanno rancore Perché gli altri Ci hanno rancore E invece proprio Abbandonandolo totalmente Arrivare proprio Alla totale Semplicità Di questa vedova Invito tutti A fare due cose Se ne avete Tempo e voglia La prima Richiamare alla mente L'esempio di qualcuno Che conoscete Certamente Qualche nonno Qualche genitore Qualche amico Perfino qualche prete Senz'altro qualche suora Che avete conosciuto E che aveva un criterio Di vita Con questa fede Semplice Ma totale Della vedova E l'altra L'altra cosa È che Quando si parla con Gesù Quando si ha a che fare Con Gesù Bisogna fare Un altro gesto Che assomiglia molto A questo della vedova E che a me piace tanto Che è il gesto Della Maddalena Quindi una donna Che poteva Dal punto di vista Dello scrivo Essere le mille miglia Lontani da Gesù Ma lei l'ha capito E l'ha capito Al punto Che ha rotto Il vasetto Tutto quello Che aveva Tutto il profumo Lo stipendio Di un anno intero Puttato via così Tanto vero che Giuda Si è arrabbiato molto Ha detto Ma che vergogna Quante chiese Si potevano costruire Ecco E allora L'impegno è Signore Gesù Dammi la forza La gioia L'entusiasmo Di non amarti Col contagocce Ma di andare A prendere Il vasetto Che è il mio cuore E di avere Il coraggio Di romperlo Che non sia Prigioniero Delle mie paure Chiunque io sia In qualunque momento Della mia vita Qualunque vita Io sto Sto vivendo Posso sempre Amare Gesù Un po' di più Posso sempre Rompere il vasetto Invece di continuare A vivere Col contagocce Un po' di più